cari amici una nuova puntata di st report siamo nel municipio 8 di milano chiaramente siamo in via della pecetta principio eugenio e qui come potete vedere iniziamo già di un gran bene guardate le telecamere dell'interscambio delle ferrovie dove sono puntate fungono più da microscopio per vedere se esistono forme viventi attraverso i muri e il terreno che altro dove vi porteremo oggi però insieme a paolo rusconi frank diamond è il nostro amico orso seguiteci lo vedrete e siamo nel centro della città la città No, 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 no. No, 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 no.